caro carburante autotrasporto sempre più allo stremo evasione fiscale nei guai imprenditore fanese per la prima volta a pesaro ospita la borsa del turismo della terza età all'expo di dubai passerella per le eccellenze aziendali marchigiani 8 marzo di benessere con donna in cammino carissimi amici di rossini tv benvenuti al nostro telegiornale oggi è mercoledì 23 febbraio e apriamo questa edizione parlando nuovamente di rincari che stanno gravando pesantemente nelle tasche dei cittadini oltre alle bollette salatissime per quel che riguarda luce acqua e gas continuano a mantenersi su cifre estremamente elevate anche i prezzi del carburante un fardello pesante per le famiglie ma che diventa ai limiti del sostenibile per gli autotrasportatori in questo inizio di 2022 non c'è solo il caro bollette a gravare sulle tasche dei cittadini e delle imprese sono palesi i rincari di carburante da settimane il metano è schizzato alle stelle il diesel si attesta stabilmente sull'euro e 70 al litro la benzina superiore all'euro e 80 una problematica seria per tutti i cittadini che quotidianamente usano l'automobile ma ancor più seria per le aziende dell'autotrasporto davvero allo stremo come ci spiega il responsabile di cna fita riccardo battisti responsabile per la provincia di pesaro urbino purtroppo l'aumento esponenziale il costo del gasolio in primo luogo ma anche del gas naturale e anche della di blu che di fatto l'additivo che va messo in tutti i veicoli euro 6 per poter funzionare porta le nostre imprese ad sopportare costi inimmaginabili fino a qualche fino all'anno scorso cosa vuol dire questo vuol dire dover ho torto collo ribaltare il costo all'utente quindi al committente il problema qual è che molto spesso abbiamo dei contratti che ce lo impediscono e quindi morale le nostre imprese soffrono dal punto di vista reddituale cioè in questo momento che era ripresa economica in atto dal 2021 rischiamo di rendere tutto evanescente tutto irrealizzabile proprio perché i costi bloccano la crescita e per comprendere quanto stia gravando il caro carburanti sulle aziende di autotrasporto basti pensare che per un camionista un pieno al tir nel 2021 costava circa 600 euro e in questo 2022 arriva a 1000 euro abbiamo diciamo il gasolio come diceva lei appunto un euro 70 quando un anno fa eravamo sotto l'euro praticamente con il rimborso al netto dell'iva perché poi le imprese girano l'iva e per loro non è mai un costo di fatto oggi quindi abbiamo il doppio quasi del costo di gasolio si è triplicato il costo del gas naturale quello che si utilizza nei veicoli meno inquinanti che diciamo anche il governo ci ha aiutato ad acquistare per rendere meno inquinante appunto il trasporto morale e in questo momento non riusciamo a gestire i costi delle imprese e la situazione non è tranquilla affatto perché purtroppo registriamo non nel nostro territorio ma in altri territori della nostra nazione momenti di disagio e anche di protesta autonomi e diciamo individuali che creano problemi anche al traffico anche la cittadinanza e la pubblica sicurezza. Noi come associazione stiamo trattando col ministero per dare risposta alle imprese su due punti uno certamente cercare di calmerare il costo del gasolio quindi la materia prima principale per le aziende di trasporto la seconda puntare sulle regole e sul riconoscere i costi alle imprese per riconoscere la sicurezza del trasporto perché purtroppo l'impresa di trasporto lavora su strada e la strada è un luogo in cui troviamo appunto e agiamo anche ci vengono i cittadini anche la cittadinanza e quindi la sicurezza diventa importante per tutti noi. Ed ora passiamo alla cronaca una nuova operazione della guardia di finanza a contrasto dell'evasione fiscale le fiamme gialle di Fano hanno infatti confiscato 55 mila euro a un imprenditore del territorio dopo indagini che hanno ricostruito i guadagni occultati al fisco consentendo il recupero a tassazione del profitto realizzato. Nel corso della verifica è stato scoperto un sistematico occultamento delle scritture contabili ad opera dell'imprenditore che è stato poi denunciato alla procura della Repubblica pesarese. Ed ora il consueto spazio dedicato al covid-19 sul nostro territorio si abbassa ad altri 19 ricoveri meno rispetto a ieri il dato sulla pressione ospedaliera del covid-19 nelle strutture marchigiane che ora contano 273 pazienti di cui 32 in terapia intensiva. Continua ad abbassarsi anche l'incidenza da contagio con 1587 nuovi casi di cui 230 in provincia di Pesaro Urbino. Tre i decessi segnalati nella giornata odierna un uomo di 52 anni di potenza piccena una donna di 60 anni di fabriano e una di 91 anni di grotta mare. Dopo il riconoscimento con il bollino rosa Marche Nord è tra i 94 ospedali italiani premiati con il bollino blu sui 155 che hanno presentato candidatura. Il riconoscimento istituito dalla fondazione Onda è alla prima edizione e contrassegna le migliori strutture italiane nei processi diagnostici e terapeutici per la cura del tumore alla prostata. Pesaro aggiunge un altro tassello alla vocazione turistica della città organizzando da sabato a martedì prossimo la borsa del turismo della terza età. Si tratta di un appuntamento che vanta già 11 edizioni in giro per l'Italia e per la dodicesima. Ha scelto Pesaro attraverso l'organizzazione di Confesercenti. La vocazione turistica di Pesaro si arricchisce di un nuovo tassello. Da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo la città ospiterà per la prima volta la borsa del turismo della terza età. Dodicesima edizione organizzata per l'occasione da Confesercenti Pesaro Urbino, Comune di Pesaro e Inside Marche Live per una rassegna che avrà il suo quartier generale all'hotel Baia Flaminia Resort che sabato ospiterà il meeting, il turismo marchigiano e il post covid e lunedì il workshop che sarà momento clou di una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 50 buyer professionali provenienti da tutta Italia così come da Stati Uniti, Irlanda, Germania e Lettonia. È una manifestazione importantissima che raggiunge oggi la dodicesima edizione. Siamo riusciti a intercettare una bellissima manifestazione che ha girato un po' tutta Italia e che per la prima volta arriva a Pesaro ed è una manifestazione che comunque riguarda un turismo anche se è della terza età ma molto alto, molto qualificato, che sicuramente porterà benefici non solo per Pesaro ma un po' per tutto l'ambito provinciale. È strutturata con una parte di promozione del territorio attraverso educational tour, press tour, quindi visite guidate a Pesaro nell'area di Urbinate e nell'area costiera. e quindi far visitare ai buyer, ospiti e ai giornalisti questo territorio. Poi è un momento anche promo commerciale naturalmente e il workshop che si farà lunedì 28 vedrà 53 buyer provenienti da tutta Italia di cui solo 7 delle marche perché abbiamo preferito portare gente da fuori nelle marche, 53 buyer con altre 60 operatori seller dell'offerta marchigiana, italiana e anche estera, penso alla Croazia, alla Slovenia, penso a Malta come esteri. Quindi è un momento promo commerciale importante in un momento in cui il turismo comincia a riprendersi e in cui il turismo della terza età che se pensiamo è stato il più penalizzato dal Covid perché poi gli anziani erano la fascia d'età più colpita per molti versi, oggi ricomincia a camminare con le sue gambe. La terza età oggi è un segmento che riguarda dai 60 anni in su 21 milioni di italiani che hanno tempo a disposizione, qualche risparmio da spendere anche per le vacanze e quindi molto interessante sul piano del turismo. Entro l'estate il parcheggio gratuito di Villa Marina sarà completato e riqualificato come previsto dal progetto di fattibilità passato ieri in giunta. Lo ha annunciato oggi l'assessore al fare del comune di Pesaro Riccardo Pozzi presentando un intervento da 200 mila euro che consentirà la realizzazione di un parcheggio a raso destinato ad accogliere 165 posti auto con interventi radicali su pavimentazione, illuminazione, segnaletica e rete di raccolta delle acque in collegamento al sistema fognario. E continua il nostro report quotidiano sulle tante iniziative che vedono coinvolte la Regione Marche all'Expo 2020 di Dubai. Nel prossimo servizio andiamo a conoscere quindi alcune delle aziende che si stanno mettendo in mostra nell'importante vetrina negli Emirati Arabi. I riflettori dell'Expo 2020 di Dubai si sono accesi sull'industria marchigiana Fileni che nel 2021 ha sfondato i 500 milioni di fatturato confermandosi il terzo player nazionale leader nelle carni bianche d'agricoltura biologica. A Dubai, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, la Fileni è stata al centro della diffusione della mission del distretto biologico marchigiano attraverso il convegno La Rigenerazione come Bene Comune. Serata dedicata a Fileni che è stata conclusa da una cena show cooking curata dallo chef Max Antoni all'M Hotel, uno degli alberghi più iconici di Dubai. Colossi industriali come Fileni, ma non solo. Ci sono anche diverse start-up innovative che si stanno mettendo in mostra nella vetrina emiratina a cominciare dalla Cagliese Townet. Siamo un'azienda che produce sistemi di telecomunicazione e sistemi di energia green dedicati soprattutto a soluzioni per la videosorveglianza e sistemi di smart city con sensoristica ambientale. Qui a Dubai stiamo presentando la nostra ultima soluzione che si chiama Sfera e siamo orgogliosi di aver integrato le nostre migliori tecnologie per presentarle nel mercato di Dubai. L'esperienza è iniziata qualche mese fa al Gitex Future Star dove siamo stati selezionati come semifinalisti di un concorso per le smart city e grazie alla Regione Marche procediamo con lo sviluppo dei contatti che abbiamo intrapreso al Gitex per la distribuzione dei nostri prodotti nel mercato medio orientale. Senior è una startup che si occupa di IoT e sensori, in particolare del progetto MasterSense. Volevamo ringraziare la Regione Marche per il contributo che ci ha offerto e per l'occasione che ci ha fornito di venire qui a Dubai a presentare il nostro prodotto, il nostro progetto e di conoscere altre aziende che lavorano nel nostro ambito per poter creare una rete di aziende e poter creare un progetto ancora più grande. Noi siamo un'azienda che crede molto in questo mercato in quanto c'è uno sviluppo molto importante nel settore del riciclaggio di materiali inerti da riutilizzare nelle costruzioni, sia che siano costruzioni di strade che di palazzi, diciamo grattacieli. Il Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino ha approvato questo pomeriggio il bilancio di previsione 2022-2024 che prevede investimenti per 35,7 milioni di euro in tre anni per le scuole superiori e 23,4 milioni di euro sempre in tre anni per le strade del territorio. Nell'occasione il presidente Giuseppe Paolini ha comunicato la nomina di Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, come vicepresidente della provincia. Il Comune di Pesaro ha installato il suo 55esimo defibrillatore del progetto Pesaro Cardio Protetta. Si tratta del 12esimo defibrillatore automatico esterno donato dall'Associazione Le Strade di Luca che è stato installato in via della Rinascita a Borgo Santa Maria, presso l'ex cinema del quartiere. Tappa pesarese questa mattina per il popolare programma di Mediaset Freedom oltre il confine di Roberto Giacobbo che ha girato oggi una puntata del format di divulgazione scientifica al Conservatorio Rossini. Nell'occasione chiaramente tanti pesaresi si sono soffermati, incuriositi in piazza Olivieri dove era parcheggiato il poderoso track della trasmissione. Teatri d'autore, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro Urbino organizzata da Amat, fa tappa domani giovedì 24 febbraio al teatro Angel del Foco di Pergola con Il Test, esilarante e graffiante commedia, campione di incassi in Spagna riproposta in Italia per la regia di Roberto Ciuffoli e le interpretazioni dello stesso Ciuffoli di Benedetta Boccoli, Simone Colombari e Sara Biacchi. L'8 marzo, fra Centro Storico e Lungomare di Pesaro, si prepara la festa della donna all'insegna di fitness e benessere con l'iniziativa Donna in Cammino evento che ci viene illustrato dall'organizzatrice Stella Scarpa. È un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente, Stella Scarpa Beauty Personal Trainer quindi la mia azienda presente a Pesaro in Viale Gramsci 39 che poi sarà anche il punto di partenza della nostra camminata alle 10 dell'8 marzo e insieme alla palestra Movens di Villa Fastigi. Insieme abbiamo voluto promuovere la valorizzazione della donna nella sua proprio giornata di rappresentanza ma anche insieme alla valorizzazione abbiamo voluto anche proprio spronare la donna che invece si è fermata diciamo nel mettersi in cammino quindi si è un attimo adagiata a causa semmai di sofferenze quindi come potrebbero essere delle malattie, malattie oncologiche oppure addirittura per lo stesso Covid quindi che l'ha un attimo demoralizzata e non fatta più ripartire verso il poi, verso il suo futuro che si merita quindi è un modo per spronare tutte le donne che si sono fermate a causa di tanti vicistitutili ma anche di valorizzare la donna che invece vede sempre proiettata la sua immagine verso un futuro quindi una donna che pensa alla sua visione futuristica in maniera ecoattiva quindi facendo sempre il primo passo. Allora dal nostro centro di rimessa in forma funzionale partiamo praticamente alle 10 e procediamo verso la palla del pomodoro dove ci sarà il primo pit stop di attività di fitness consapevole che valorizza sempre di più un fitness slow quindi ad un giusto ritmo e personalizzato proprio all'utente che non è un'attività estenuante come quella che si può fare nelle normali palestre quindi anche un'attenzione particolare a far rientrare queste donne nella loro propria eccettività quindi nella loro consapevolezza, nel loro sentirsi e poi il secondo pit stop sarà alla Rotonda Bruscoli in spiaggia quindi ci sarà un'altra attività che potrebbe essere o lo yoga o il girotonic addirittura e poi il terzo pit stop termina appunto in piazza del popolo dove appunto ci saranno gli altri personal trainer con un'altra ulteriore attività e si può partecipare anche l'uomo in quanto proprio è giusto così perché si vede sempre noi donne che siamo viste come il sesso debole come l'uomo che è sempre emerso di più rispetto alla donna non è assolutamente così anzi sfatiamo questo mito anzi vediamo sempre di più l'uomo anche in questa iniziativa accanto alla donna nel sostenerla, nell'appoggiarla, nel suo andare avanti per le adesioni ci sarà questa locandina che girerà tantissimo sui social e sui nostri siti web quindi della palestra Movens e di Stella Scarpa Beauty Personal Trainer ma anche all'interno di tutti i canali social e siti di ConfCommercio e di Terziere Donna ConfCommercio Pesaro Urbino e del Comune di Pesaro quindi comunque sia per le adesioni possiamo contattare il 329 7718776 Marica, la nostra segretaria e lasciare oppure le adesioni attraverso una mail ad info chiocciolaesteticamentestella.it o segreteria chiocciolaesteticamentestella.it E concludiamo il telegiornale di questa sera parlando di libri oggi andiamo a conoscere il romanzo Il diario del destino del giovane cantautore pesarese Davide Pagnini che domenica presso le limonaie di Muraglia ha presentato la sua prima fatica letteraria Davide Pagnini, cantautore, musicista e ora anche scrittore domenica nella location delle limonaie di Muraglia è stata presentata la tua prima fatica letteraria di cosa si tratta e qual è stata la molla scatenante che ti ha portato a passare dalla musica alla scrittura? Allora io sono molto appassionato di scrittura in generale unendo la scrittura alla musica perché io ho studiato musica per tutta la vita dal conservatorio poi via via verso la musica pop cantautorale ho iniziato appunto nella vita da giovane a scrivere canzoni però non ho mai abbandonato la scrittura narrativa e ho scritto racconti, poesie, un po' di cose che poi mi hanno portato a credere di poter scrivere un romanzo e quindi poi qualche anno fa mi ci sono messo ho scritto il primo capitolo ci ho creduto qualcuno ha intravisto un potenziale appunto come romanziere e quindi poi ho continuato capitolo dopo capitolo alla fine dopo un annetto circa di lavoro poi è uscito il romanzo che è questo quindi adesso posso definirmi anche diciamo uno scrittore evitando di spoilerare troppi contenuti una piccola sinossi di quello che si trova in questa pubblicazione guarda questa storia è divisa in due parti ci sono due linee narrative che sembrano apparentemente molto molto distanti anzi sono molto distanti però poi forse il destino forse il caso infatti il titolo poi è il diario del destino perché appunto ho cercato di dare una chiave di lettura al perché certe storie che sembrano veramente agli opposti poi qualche volta si attraggono e si fondono in qualcosa che poi può diventare un'unica storia quindi la frase qui di manifesto è due vite da vivere un destino da compiere dal contenuto alla copertina nella quale c'è questo richiamo all'Africa che parte integrante del romanzo sì, l'Africa è molto importante e non è il contesto dove si svolgono le azioni ma è proprio un personaggio quindi io in una delle due linee narrative descrivo l'Africa proprio come personaggio fondamentale di questa storia dove possiamo trovare il diario del destino? allora sicuramente in tutte le librerie si può ordinare si può ordinare anche su internet nelle varie piattaforme IBS, Mondadori, Feltrinelli, Amazon quindi diciamo dappertutto e poi alle mie presentazioni cercheremo di organizzarne il più possibile in giro per l'Italia e allora davvero complimenti a Davide Pagnini e adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV innanzitutto questa sera torna l'appuntamento per tutti gli appassionati dei nostri amici animali qua alla Zampa questa è la sesta puntata della scorsa edizione quindi alle 21.20 collegatevi per vedere questa puntata insieme a Giacomo Lucchetti e il nostro Antonio Astuti e poi andiamo avanti domani vi ricordiamo che torna insieme a Canestro il nostro programma sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in diretta alle 21.20 domani ci sarà Matteo Maggi che è il team manager VL e Coppa Italia e Thomas Nobili lo speaker della VL potrete partecipare mandando i vostri commenti attraverso il numero che vedete di Whatsapp oppure commentando sotto la nostra diretta Facebook perché potrete ricevere biglietti gratis e tanto altro e poi questo sabato torna Ui Pesaro TV lo spazio che vedete su Rossini TV due sabati al mese sabato alle ore 13.30 c'è ospite Marco Perugini che è presidente del Consiglio Comunale mentre domenica il consueto appuntamento con la trasmissione in diretta della messa questa domenica saremo in diretta dalla parrocchia Santa Maria Regina in Borgo Santa Maria Ho detto davvero tutto come sempre grazie per essere stati con noi ci rivediamo però domani mattina puntuali alle 7.20 con la nostra rassegna stampa